Si chiama Olly Whartle, è un uomo che pensate ha una particolare allergia, è allergico ai baci e può addirittura essergli fatale. Questo ragazzo inglese del Surrey, di soli 22 anni di età, non può avere incontri ravvicinati di questo tipo con le ragazze. Tutto per colpa di questa allergia di tipo invalidante alle arachidi ed anche al burro di arachidi. Non può mangiare nulla che contenga questo alimento anche in maniera molto vaga, quindi non solo la tipica frutta a guscio ma anche i biscotti, le caramelle, il gelato, il torone, le salse, gli hamburg vegani, la mortadella e tanti altri cibi esotici. Per non correre il rischio quindi ha scelto di non entrare in contatto con le labbra che potrebbero averne anche gustato in maniera molto lontana il sapore. Basta una contaminazione nella superficie sfiorata che scatena una reazione allergica che può portare il povero a morire. Grazie per l'ascolto è molto rara, faccio sapere a tutti, ma è anche qualcosa che a volte può verificarsi in alcuni tipi di esseri umani. Iscrivetevi se volete, commentate, un chiaro salutone e al prossimo video dal narratore italiano.